Sul porto di Taranto c'è un gran parlare di battere, tutto bene a un patto, quello di non illudere nessuno. Per decenni, tanti, forse troppi, il porto di Taranto ha avuto un significato preciso. Italsider e Eni, sbarco di materie prime in barco di manufatti o carburanti. Dietro questa formula, che comunque assicurava reddito e alti margini di guadagno, nessuno si preoccupava del resto, anzi si tirava a campare e così si davano in concessione per 90 anni moli e retroportualità. Oggi con difficoltà, con coraggio, si percorrono le alternative e anche con successo. È il caso delle crociere, un vero caso con Taranto che balza nelle classifiche nazionali, è il caso del molo polisettoriale, oggi gestito da Ilport, che fa scoprire che oltre i container, che certamente arriveranno in numero più copioso quando termineranno i lavori di dragaggio, il valore degli ampi spazi a disposizione per far diventare, come leggiamo in un comunicato appena emesso da Ilport, il punto di riferimento nel Mediterraneo quale grande base logistica a disposizione di importanti gruppi internazionali per costruire le torri eoliche e relativi impianti destinati ai vasti parchi offshore che si realizzeranno nei prossimi mesi ed anni in virtù dell'avviata transizione energetica. L'iniziativa Renantis Ilport, partita un anno fa, ha reso il terminal funzionale per cosa? Per l'economia circolare a supporto dell'economia italiana. Il tutto è emerso dal recente forum Ambrosetti, durante il quale diversi interlocutori internazionali del peso di Adi e Fincantieri hanno evidenziato le enormi potenzialità di sviluppo dei parchi eolici galleggianti e il realizzando comparto di filiera con un impatto del valore di centinaia di miliardi di euro. Venerdì la visita di Patrizia Scarchilli, direttore generale del Ministero dei Trasporti e Maria Cristina Farina al molo polisettoriale accolte dal presidente dell'autorità di sistema Sergio Prete, dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione di San Cataldo container terminal Carlo Carbone e dal direttore generale Cosimo Palagiano. La SCCT, come leggiamo in un comunicato, occupa circa 150 dipendenti, di cui più del 90% assorbito dal bacino della Taranto Port Worker Agency. Per quanto riguarda il terminal container, partendo dalle tre linee di collegamento in funzione, il port segnala il costante e forte trend di incremento dei traffici 100% sul 2022 e 340% sul 2021, con il debutto questa settimana della compagnia di navigazione Xpress.